L'Italia di Winter Cup under 16 femminile è in finale per il titolo europeo d'inverno. Ricordiamo che si giocherà dal 17 al 19 febbraio a Brest in Francia. Intanto a Vesca in Repubblica Ceca le azzurrine hanno conquistato uno dei due posti per la finale a 8. Grazie alle vittorie nei quarti sulla Svezia per 2 a 1 e in semifinale sulla Polonia per 3 a 0. Il capitano è Giovanni Paolisso e ha schierato in tutte e tre le partite Federica Sacco, la nostra Federica Sacco che in totale ha giocato 5 incontri vincendone 3, un singolare e due doppi e confermando di essere pedina fondamentale delle nazionali giovanili come già in passato in Nation Cup, Winter Cup e Summer Cup under 12 e under 14.